partiti in vantaggio a centro pista Royal Raquel avendo all'esterno Artioidea e lungo la corda Marta's Moment in seconda linea segue Special Mission a largo di tutti Katia Arianna in coda ciao ciao siamo a metà gara con Royal Raquel in leggero vantaggio a centro pista inseguita all'esterno da Artioidea e all'interno da Marta's Moment che ha vicino anche Special Mission siamo a 300 dal palo con in vantaggio Royal Raquel nei confronti di Special Mission Marta's Moment per linee interne poi ciao ciao nel tratto conclusivo in vantaggio si mantiene Royal Raquel attaccata all'esterno da Special Mission i due vicinissimi sul palo Special Mission e Royal Raquel davanti a Marta's Moment ciao ciao andiamo a rivedere le immagini con Special Mission che è passato in vantaggio a largo negli ultimi metri Royal Raquel prova la rimonta interna i due sul palo sono molto vicini ma probabilmente all'esterno Special Mission è riuscito a mantenere un leggero margine sull'avversario al terzo posto il 5 di Marta's Moment dobbiamo aspettare dunque il risponso del giudice d'arrivo per il primo posto in questa terza corsa di Napoli Grazie a tutti